eccoci qua Maurizio Polio Solution abbiamo fatto un bellissimo evento presso i 21 grammi in via l'italia la sede bellissimo locale ristorante bar aperto pranzo cena bravissimo la gestione è ottima la direzione pure erano presenti le famiglie il 14 dicembre presso di loro abbiamo fatto una pericena con i produttori bio con i prodotti bio e la finanza riguardante proprio una legge che si chiama la legge del dopo di noi che troverete il piccolo video di Giusy Fiondelli la nostra educatrice finanziaria che ci ha parlato di questa legge a favore delle famiglie con ragazzi e ragazze che hanno disabilità cosa abbiamo fatto abbiamo assaggiato i prodotti di tradizioni padane a base di monococco abbiamo le farine del monino piantoni i formaggi di Carioni Food and Delt di Tommaso Carioni quindi ringrazio tutti questi produttori video anche coloro con sacrificio e passione producono cibi che fanno star bene le persone così come noi di One Solution cerchiamo di far proteggere le famiglie i loro risparmi e il loro futuro cosa abbiamo raccolto? era una serata anche di raccolta di donazione siamo tutti assieme e le persone che sono intervenute siamo arrivati alla cifra di 550 euro che verrà data poi alla cooperativa Big Bang anche questa piccola goccia questo piccolo contributo da parte nostra da parte dei ringrazio sempre tutti i nostri amici produttori bio che ci hanno dato la possibilità di fare questo piccolo intervento in cui noi di One Solution crediamo molto e affettuosamente abbracciamo tutte le famiglie del centro Bresciano Down e auguriamo loro un buon Natale e un buon anno noi di One Solution cammineremo a fianco vostro pianino pianino piccole gocce ma ci siamo anche noi buon anno